ciao a tutti vi piace questo stencil con gli uccellini secondo me è molto adatto per un anniversario è in materiale morbido flessibile lavabile e con questo ho deciso di fare un disegno da pirografare ho usato una tavoletta di compensato da 3 mm prima ben lisciata con carta vetrata in modo da togliere tutte le rugosità e le parti ruvide del legno la prima cosa da fare è decidere dove posizionare il disegno e poi con una matita ripassarlo a Grazie a tutti. Come si può vedere una volta fatto il contorno riempiamo un po' le parti che vorremmo fare più scure in modo da avere un'idea mentre si sta pirografando di cosa si vuole ottenere. Grazie a tutti. Una volta preparato il disegno passiamo all'utilizzo del pirografo. Utilizziamo un pirografo Brent Peter, uno dei migliori con regolazione della temperatura. Tra le punte che si potrebbero scegliere io ho deciso di usare la punta piatta. Questo è un pirografo di alta qualità prodotto in Germania, è veramente un buon attrezzo. Ecco, qui vedete la punta piatta che usiamo per fare questo disegno. Ci vuole un po' di pazienza ma il risultato sarà davvero piacevole. Un po' di pazienza ma il risultato sarà davvero piacevole. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.